Gradisca è una città piena di storia, piena di cultura, piena di monumenti, di palazzi che ci raccontano del suo passato glorioso, eppure Gradisca non ha saputo cogliere quelle occasioni che in questi ultimi cinque anni le si sono presentate. Mi riferisco all'anno 2015, era il quattrocentesimo anniversario della guerra gradiscana. Cosa abbiamo fatto a Gradisca per ricordarlo? Una mezza mattinata di un convegno al quale non sono seguite neanche la pubblicazione degli atti, eppure altre città noi vicine, non coinvolte nella guerra gradiscana, oggi fanno un evento, una rievocazione storica di tre giorni, alla quale partecipano oltre mille figuranti e che portano in città più di 20.000 persone. Per di più questa città, Palmanova, assieme a Grado, assieme ad Aquileia, assieme a Cividale, hanno costituito con la regione un gruppo per promuovere la nostra regione attraverso la storia e la cultura dei loro siti, delle loro città. Gradisca in questo gruppo non compare, eppure Gradisca ha un castello, Gradisca è stata oggetto della guerra del 1615, ma Gradisca ha perso anche un'altra occasione. Nel 2017 ricorrevano i 300 anni della morte dell'ultimo degli Eggenberg. Con gli Eggenberg noi siamo stati una principesca contea, abbiamo battuto moneta, abbiamo il tallero gradiscano. Che cosa abbiamo fatto per ricordare questo periodo storico eccelso per noi? Abbiamo fatto una serie di conferenze, nove conferenze. Anche in questo caso non c'è stata neanche la pubblicazione degli atti, non abbiamo fatto null'altro, neanche il conio di una copia del tallero da poter distribuire ai nostri cittadini. Nel 2018 ricorrevano i 100 anni della fine della prima guerra mondiale. Nel periodo dal 2014 al 2018 sono stati fatti eventi, manifestazioni in tantissimi paesi e in tante località. A Gradisca non abbiamo fatto nulla, non siamo entrati in nessun circuito, non abbiamo fatto una mostra. Eppure la prima guerra mondiale a Gradisca è stata pesante. L'undicesimo bersaglieri era qui, era da noi, sul castello. Tutto dimenticato, tutto passato in secondo piano. Non dimentichiamoci poi quello che è successo pochi giorni fa. Il 2 maggio del 2019 ricorreva il 500esimo anniversario della morte di Leonardo da Vinci. Il nostro Presidente della Repubblica è andato in Francia a deporre una corona, a ricordare ufficialmente, istituzionalmente questo evento. Noi qui di istituzionale non abbiamo fatto nulla. Dobbiamo ringraziare dei privati che hanno fatto, hanno organizzato un ciclo di conferenze su Leonardo, presentando anche un Leonardo diverso da quello che siamo abituati a conoscere. Un Leonardo quasi simpatico, un genio simpatico. Se ci va bene, riusciremo per fine anno a fare un progetto, a realizzare un progetto che inizialmente non era stato approvato dalla Regione, non era stato finanziato dalla Regione, che è stato ripescato grazie all'intervento dell'assessore Gibelli, assessore regionale alla cultura. Beh, speriamo che questo progetto ci soddisfi e renda merito a Leonardo, ma soprattutto aggradisca. Comunque la cultura è un qualche cosa che va programmato, che va studiato, che va pianificato. Fare cultura non è fare 400 festiciole all'anno. Fare cultura è tutt'altra cosa. Grazie a tutti.